Parliamo della legge dell'attrazione, sempre da Monica Sirelli, da www.ft-azione.it e dal canale YouTube FT-azione. E vogliamo proprio parlare della legge dell'attrazione perché spesso le persone mi scrivono, mi chiedono per la realizzazione dei propri obiettivi. Fermo restando che ci sono due livelli su cui noi possiamo lavorare per i nostri obiettivi. Primo livello è togliere le cose che stanno frenando, ok? Quindi prima togliamo i freni, lavoriamo sulle cose negative, sulle memorie, sui problemi, quindi anche fare i giri negativi di FT è molto utile proprio per questo. E dall'altro lato cominciamo a seminare il positivo e questo è un giro proprio di semina del positivo e di connessione alla legge dell'attrazione, di connessione a ciò che vogliamo, di riorientamento della nostra energia interiore a ciò che desideriamo manifestare e ottenere. Quindi partiamo subito dal punto Karate e partiamo proprio dalla frase tipica di chi fa appunto formazione di legge attrazione che anche se non ho il libretto di istruzioni e non so come vanno le cose, non ho la capacità di vedere le informazioni, non ho avuto le informazioni su come funziona bene l'attrazione della manifestazione, io mi amo, mi accetto e mi perdono e mi apro la possibilità di ricevere indicazioni sopra la testa, anche se alcune indicazioni già le ho, ok? Perché le avete? Perché sapete già che pensiero, emozione e vibrazione attirano ciò che vogliamo, ok? Quindi centro dell'occhio so già, diciamocelo anche, pensiero, emozione e vibrazione attirano ciò che vogliamo, attirano ciò che voglio, meglio ancora. Respira, lato dell'occhio. Il punto è che rispetto ad alcuni obiettivi faccio più fatica, sono meno allineato e pensa in questo momento qual è l'obiettivo in cui sei meno allineato? Tutti ne abbiamo uno in cui siamo più fragili perché ci sono memorie e là ci vai a lavorare con la pulizia di effetti ovviamente sotto l'occhio. Tutte queste memorie e la connessione con l'obiettivo. Sotto il naso la legge dell'attrazione. Mi permetto di attivare la legge dell'attrazione consapevolmente. Mi permetto sotto la bocca di essere più consapevole dei miei pensieri, delle mie emozioni, delle mie sensazioni in modo tale da rimanere settato rispetto ai miei obiettivi, emotivamente allineato. E mi permetto di applicare la legge dell'attrazione al positivo, a ciò che voglio anziché a ciò che non voglio. Quindi timo, recupero tutta la mia energia vitale, rimasta congelata nelle cose che non voglio, nella legge dell'attrazione che non voglio e la riconduco al giusto posto in me. Fate un respiro, fai un respiro, ancora, sotto il seno, sotto l'ascella, lascio andare, allontano tutta l'energia non mia, rimasta congelata nella legge dell'attrazione su ciò che non voglio, da ogni mia cellula, da ogni mio corpo e da tutto il mio spazio personale e la rimando al vero posto, al vero tempo, al vero sé a cui realmente appartiene. Respira, sotto il seno, quindi mi permetto di attirare ciò che voglio e mi permetto di lasciare andare ciò che non voglio e mi permetto di manifestare il mio potere. Tabacchiera, io sono in grado di manifestare ciò che voglio e anche se ci sono parti in me che sostengono che per me sia impossibile, io mi permetto di connettermi con ciò che voglio. Gamut, anche per me è possibile manifestare e sentite nel vostro corpo com'è cambiata la vibrazione, quindi cavolo mi sento che veramente posso farlo, mi sento che sono allineata, mi sento che sono allineato, mi sento che è possibile, è possibile. Respiro, punto delle dita e attivo le risorse per raggiungere i miei obiettivi e recupero l'energia vitale necessaria per far partire la legge dell'attrazione su ciò che voglio. Respira. Perché dico recupero l'energia? Perché è fondamentale sostenere i nostri obiettivi, ciò che vogliamo con l'energia. Sarà anche argomento di uno dei prossimi video, il discorso dell'energia all'interno del corpo e fondamentale è naturalmente l'alimentazione, fondamentale è lo stile di vita, le ore di sonno, come respiriamo, che persone frequentiamo, tutte situazioni che sono il nostro carburante e quindi per dare, per portare avanti ancora meglio i nostri obiettivi. Ma ora concentriamoci proprio sul voglio anche mettere a posto queste cose. Perché? Perché la legge funzioni, la legge di attrazione funzioni, ci vuole carburante, ci vuole intenzione, ci vogliono emozioni positive, ci vuole stato. Ok? Quindi rimaniamo centrati e vediamo che cosa accade mentre facciamo questo giro, proprio anche alla fine del giro, pensando, visualizzando proprio quello che è il nostro obiettivo e allineandoci energeticamente, emotivamente a questo. Buona pratica e attendo il vostro feedback.